Com'è nata questa iniziativa con la Caritas rivolta ai rifugiati e agli immigrati che sono nella nostra provincia? Questa iniziativa nasce per la volontà del sindacato di porsi come uno strumento sul territorio volto naturalmente a occuparsi degli interessi globali di quello che può essere il cittadino. Pertanto è un percorso che portando queste persone all'interno di un pezzo della nostra società che nel sindacato è il mondo del lavoro ma anche l'integrazione ma anche le politiche di pari opportunità intende iniziare questo tipo di percorso. Quindi non sono delle lezioni finalizzate a un apprendimento puramente grammaticale come si può immaginare ma offrire delle competenze che poi possono essere spese sul territorio e offrire soprattutto delle nozioni su quello che è il nostro modo italiano di agire la nostra cultura in senso molto più lato. Sicuramente è necessario ed è importante per questo che ringraziamo la Will per questa possibilità che ci offre perché tutto passa dall'imparare la lingua italiana per poter almeno capire e sapersi orientare. I migranti che arrivano sul nostro territorio non sanno nemmeno di essere in Italia tantomeno conoscono Abruzzo Pescara per loro c'è solo il desiderio di una vita migliore e questo ci può essere se si comincia a conoscere innanzitutto il paese dove si trovano le regole che ci sono da rispettare e anche gli impegni che poi anche loro devono assumere nel rispetto di chi li accoglie. Noi come tutto il resto del nostro paese ci troviamo di fronte a questo fenomeno da numeri che forse qualche tempo fa nemmeno si potevano immaginare però oramai ci siamo, sicuramente non possiamo avallare più una situazione del genere però ora ci siamo e io mi appello al senso di responsabilità di tutti delle forze politiche, forze sindacali ma di tutti.